parte il monologo allora ragazzi ritornare sulla partita di ieri secondo me non ha senso una partita che avete visto tutti indegna da parte della Roma dove qualche giocatore e qualcuno e qualcuno vice capitano della Roma credo che ieri è stato palese almeno per chi non vuole far finta di niente perché poi ci stanno persone che fanno finta di niente perché basta una bandiera sventolata basta un atteggiamento una cosa ma ieri abbiamo visto tutti quanti che il signor Gianluca Mancini ha giocato contro l'allenatore mi sembra chiaro ieri c'è stata un'azione dove la Fiorentina credo va a prendere o il calcio di rigore o la Wallinitz o tutto quanto comunque fa il gol e lui proprio si vede proprio che si ferma e cammina però tolto questo tolto questo io ragazzi sono anni e anni che vi parlo di Mancini Pellegrini Cristanti non so quanti anni sono che vi dico che questi non possono tenere lo spogliatoio della Roma non è normale da lì parte la mediocrità questa estate dei giocatori vi ho detto ragazzi ma voi vi pensate che con Di Bala a Roma vince lo scudetto o se dai via Di Bala magari è meglio riesce a fare la squadra prendi un giocatore più funzionale un giocatore che ha fame che ha testa che ha voglia che ha gamba che ha fisicità Di Bala poi è fortissimo tecnicamente per carità lo conosciamo tutti però il problema è che qua ci affezioniamo sempre ai personaggi sportivi ai giocatori e diamo poi in culo alla Roma come in questo momento in questo momento invece di volere il bene della Roma e pensare a quello che si deve fare in questo momento e pensare guardare avanti adesso io vedo in giro le vedove di Bove le vedove di Murigno rimarcando no perché quando c'era Murigno e quando c'era Murigno ma non vi siete scordati Murigno Murigno brutti impostori sossoni e fate anche i speaker radiofonico per radio e tutto quanto siete dei sossoni perché ora vi spiego il perché tutta questa tragedia qua parte tutto dal progetto Murigno che non andava mai preso per la Roma mai perché la Roma con Murigno non ha mai costruito un cazzo le altre costruivano tu non costruivi un cazzo perché non hai valorizzato nulla perché non hai preso giovani perché non hai fatto calcio perché non sei stato mai competitivo un campionato con i tuoi competitor perché siamo andati a vedere la coppa perché lui è un allenatore che guarda solo vinto o perso la coppa il suo culo non gli è mai fregato un cazzo della crescita della Roma perciò non gli è mai fregato un cazzo di entrare in Champions League per alzare quella coppa del cazzo quando io mi ce so avvelenato della Champions League perché entrare in Champions League era crescita lui e voi vi siete fatti inculati la coppa del cazzo della Conference League e dell'Europa League quando noi dovevamo fare un percorso di crescita che partiva proprio dal campionato per andare in Champions League Murigno Murigno il suo tempo l'ha avuto Murigno i suoi 23 giocatori nella sua era li ha cambiati il suo tempo l'ha avuto perché Murigno è stato qua ve lo ricordo a tutti dopo due anni e mezzo e quando è andato via è andato via dopo che perde una partita a Milano e lascia la Roma in 29 punti in 20 partite lascia la Roma dopo aver perso un derby di Coppa Italia quarti di finale e erano tre anni che non vincevano in derby con Murigno questo è e io oggi mi devo far sentirti no perché Murigno queste partite ne perdeva ma come cazzo ma veramente voi siete proprio abbindolati ma che va che ha fatto sto uomo la Roma ha preso 6 coccorboto ha preso 4 a 0 con l'Udinese con Murigno e ha preso 4 a 1 a Genova quando i frecchi non stavano a cacciare per la prima volta ma voi siete impazziti voi siete impazziti no perché quando c'era Murigno ma quando c'era Murigno di che cosa che facevamo 63 punti 63 punti ma di che cosa e poi adesso stiamo a parlare di Bove parliamo di Bove ragazzi ma ieri Bove 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 io ne parlerò quando Bove andrà a Real Madrid andrà alla Juve al Milan all'Inter o all'Arsenal o al Tottenham a queste squadre qua ma che sta che sta alla Fiorentina che sta alla Fiorentina a me io io de Bove che ve parlo che fa una partita fa una grande partita come Cataldi Adli Ken e quello e quell'altro contro una Roma distrutta e che ce vuole e che ce vuole ieri fa una grande partita una grande cosa bene ha fatto una bella partita un giocatore sicuramente da Serie A e ve l'ho detto il livello della Fiorentina ce può stare il livello di questa Roma per carità a Bove ma se dovessi fare una Roma forte sicuramente Bove nella mia squadra non ce sta titolare in una Roma forte e io dopo la partita ieri sto a pensare a Bove a quello e a quell'altro io quello che posso pensare invece era solo una cosa a Daniele De Rosci quello sì uno perché è stipendiato dalla Roma dalla Roma è ancora l'allenatore della Roma due perché non gli non ha avuto il suo ciclo per dire Daniele De Rosci te ne devi andare Daniele De Rosci vattene Daniele De Rosci sei un incapace non ce l'ha avuto il suo ciclo non ce l'ha avuto non gli sia stato dato il tempo materiale quello che è stato dato a Palladino per la Fiorentina per a Palladino per costruire però ad oggi io non mi fossilizzo neanche su Daniele De Rosci Daniele De Rosci o volete prende fate quello che vi pare o prendete non prendete fate quello che vi pare io non sono un De Rosciano io quando è stato preso De Rosci neanche lo volevo Daniele De Rosci neanche lo volevo però ad oggi visto che la squadra lo vuole visto che il mercato è stato fatto in base anche a quello che aveva detto lui in gran parte in un certo senso no ma in gran parte i giocatori li aveva chiamati lui c'è stato tutto questo marasma generale allora ti dico io provo con De Rosci fino a giugno e vedo quello che mi riesce a fare da qua a giugno se De Rosci va male faccio sempre in tempo a De Rosci a giugno a fine campionato perché certo soprani nego può mandare via prima di un mese gli fa fare tutto il campionato e poi dice ciao Daniele siamo stretti a mano ma io credo che Daniele sarà lui stesso che se le cose dovessero andare male ti dice ciao abbiamo scherzato però in questo momento credo la scelta logica per questo momento è Daniele De Rosci finire il campionato con Juric è impensabile perché è un allenatore che non ha più la squadra sotto mano non è pronto preparato a livello caratteriale a livello di carisma per poter allenare i giocatori della Roma e per poter allenare questa Roma tolto il discorso del campo che anche a livello di campo lui è uno è uno che fa quella cosa lì sa fare quello e vuole andare avanti per la sua strada ma questi giocatori qui non possono giocare uomo su uomo a tutto campo in tanti non tutti non hanno le caratteristiche fisiche adatte per fare una cosa del genere non ce l'hanno non ce l'hanno è facile è semplice ma oltre il gioco secondo me è che l'allenatore non ti arriva a me non arriva quando va in conferenza non è bravo a comunicare e come non arriva a me non arriva neanche ai calciatori come non arriva a voi non arriva neanche ai calciatori perciò questa squadra qui questa squadra qui non può stare a mano a Juric e in questo momento per trovare le soluzioni ripeto quella più semplice e non riesco a capire perché non si fa è ricamare Daniele De Rossi quella è proprio Magna e il pollo che emani Daniele De Rossi che accetta una figura a fianco a sé lo scegli senza dire un cazzo a Ghisolfi così Ghisolfi dà le dimissioni perché è un altro che non può fare il direttore sportivo della Roma ok non lo può fare non lo può fare è proprio inadeguato a ruolo e anche lui non è soltanto perché ha preso Dalle o ha preso Lefe come primo acquisto o non ha preso un terzino non è adeguato a ruolo per questioni di personalità e carisma quando vi ho detto che io ho saputo vi avevo detto io ho saputo che lui parla alla squadra con gli occhi bassi in francese e i giocatori neanche lo stanno a sentire non lo non lo ascoltano qui ci vogliono persone con le palle poi andiamo alla squadra poi andiamo alla squadra perché la squadra è l'ultimo problema se prima crei la struttura se tu fai la dirigenza se tu metti in allenatore coi coglioni poi la squadra viene di conseguenza ad oggi Mancini Cristante non vi dico Pellegrini che Pellegrini lasciamo per fanno quello che cazzo gli pare dentro la Roma ma è stato sempre così eh sta forza qua a chi gli ha da Murigni guardamose nell'occhi visto che fate tutti i fenomeni soprattutto nei radio io ce l'ho soprattutto che nei radio no che fate i fenomeni che no però perché Mancini Cristante e chi gli ha data tutta sta forza ma gli ha dato quando è arrivato Murigno quando è arrivato Murigno Murigno prende Pellegrini ma c'è Cristante che fate non lo sapete e gli ha da la Roma a mano gli ha da la Roma a mano gli fanno i riportini in lo spogliatoio gli tengono in lo spogliatoio e questi sono quelli che si sono attaccati con Matic che fanno la guerra a Dybala che fanno sapete cose all'argentino sono questi sono quelli che bullizzano i primavera è sta gente qua che in allenamenti i primavera gli fanno le cose i primavera i coatti a Felix lo ricordate sono loro sono loro sono i ruffiani i ruffiani dei tifosi questi sono i ruffiani dei tifosi ma loro sono l'ultimo problema in questo momento perché se tu fai gente di calcio che non si fa in culà come Spalletti a Inizio Spalletti ti ho portato a europeo il ritiro ti ho visto tutto quanto ciao fuori secondo voi perché stanno fuori dalla nazionale oltre a qualità tecniche il problema è che tu adesso devi mettere gente gente veramente di calcio che poi queste qui piano piano gli fai fare un percorso naturale e li mandi fuori da Tricoria tutti perché poi mica sono solo loro perché Paredes ma che cazzo te riti ma tu che cazzo te riti a fine partita Paredes io non voglio più vedere Di Bala per me ha finito ma già aveva finito st'estate chi c'è sta gli altri Esciarawi Esciarawi pre-infermeria gioca una volta sì una volta non basta scadenza di contratto la Roma deve fare pulizia la mia premura è tenere i giocatori forti che ha la Roma perché la Roma qualche giocatore forte ce l'ha e ce l'ha pure da Champions League e vi faccio il nome Svilar Dica Manucone Dobic questi sono quattro giocatori quattro giocatori che è una spina dorsale che sono da Champions League ma tu così li vai a rovinare vai a chiedere i giocatori questi giocatori qua che i direttori sportivi quelli forti lo sanno che sono forti te li vengono a prendere le pippe te le lasciano qua ma questi te li vengono a prendere e poi sarebbe un disastro perché a Roma dovrebbe ripartire da sti quattro giocatori ripulire lo spogliatoio come ha fatto il Napoli quando il Napoli vinse lo scudetto mandò via Coulibaly Insigne Mertes Fabian Ruiz tutta gente che era da anni che stava a Napoli li manda via e vince lo scudetto la Lazio di quest'anno che non vincerà lo scudetto perché i nomi quello che spende tutto quanto ma fanno una squadra che gioca con i sentimenti che gioca a calcio manda via Luis Alberto Immobile i leader la gente che stava nella Lazio da anni e tutto quanto e prende riparte la Roma ha bisogno di fare questa cosa qui sono anni che su sto canale parliamo di discontinuità la discontinuità deve partire sia dalla Rosa ma anche da sto discorso di st'Europa League di giocarci giovedì che ha rotto il cazzo stanno se la situazione non ci riprende non ci riprende è meglio ragazzi fare come il Napoli uscire da tutto e tutto e io lo dico pure contro i miei interessi perché faccio sto lavoro a me più partite se giocano è meglio è ma per benedare Roma a Roma deve fare un qualcosa che non ha fatto in questi sei anni prendere prendere un allenatore e un direttore sportivo con i coglioni che non è che dici oh punto interrogativo no punto punto esclamativo devi prendere gente che sei sicuro al 100% non si può più sbagliare però adesso c'è il problema che fai in questo momento la Roma si è incartata ecco perché io parlo di De Rossi perché per me De Rossi è sarebbe un traghettatore ma vediamo nel senso la Roma te la devi meritare fino a giugno la devi meritare la Roma te la devi meritare fino a giugno la Roma te la meritare fino a giugno ma intanto bisogna portare la nave in porto con questo allenatore qua non ci può andare avanti e adesso che cosa fai vai a prendere Sarri Sarri è adatto per andare avanti in questo momento dove Sarri è maniaco della tattica le cose sue rimette cioè la Roma ha bisogno di far punti ha bisogno di cominciare a vincere i partiti del carattere di Sarri io non lo vedo in corsa Sarri e poi cominciare pure in età che non non mi ispira da progetto poi chi c'è sta Allegri Allegri è l'allenatore che prenderei in questo momento per traghettare la Roma ma non ci farei in progetto con Allegri Allegri non te ci viene per fare sei mesi di contratto no ok poi chi c'è sta che abbiamo chi sono gli altri allenatori che si possono prendere stranieri in questo momento se te vai avventurare non si può fare in questa bufera ecco perché secondo me la Roma ancora non ha cacciato Iuric perché si è incartata da sola e perché ancora non vogliono fare un passo indietro anche perché Lina ancora mi risulta che sta dentro i meandri dei trigori e tutto quanto e e perciò questi non vogliono fare un passo indietro ma la cosa più logica è chiamare De Rossi chiamarlo e dargli la squadra in mano fino a giugno poi se lui dovesse rifiutare intanto rompi subito un contratto e niente ti da mancare a mettere se sei d'accordo a buona uscita boom oh non hai accettato basta sei licenziato per giusta causa e non te vago più ma l'unica cosa da fare che vedo realmente possibile in questo momento è richiamare Daniele De Rossi e arrivare fino a giugno poi a giugno Daniele De Rossi sarà in grado di allenare a Roma continua se non sarà stato in grado non avrà portato i risultati lo mandi via e prendi un allenatore top fatto scegliere dal nuovo direttore sportivo che deve essere un top ma un top italiano hai soldi ok Sartori quanto guadagni un milione ti hai due milioni e direttore sportivo ti fa guadagnare una marea di sordi sei bravo direttore sportivo direttore generale poi le va del CEO stadio me ne frega un cazzo qui abbiamo pensato per troppi anni eh a sto cazzo di stadio alla digitale come cazzo si chiama digitale abbiamo pensato alle le cose tutte le cazzate delle cose per far contenti di voce qua non abbiamo pensato al campo a un progetto sportivo che non è mai esistito dal momento che tu e il primo anno vabbè c'era Fonseca ok ma dal momento che tu prendi Murigno e fai il progetto sostenibile con Tiago Pinto per fare scuola guida in un club dove lui non aveva mai fatto il direttore proprio direttore sportivo era un dirigente al Benfica ma il direttore sportivo era lui costo non ha manco neanche mai giocato a calcio Tiago Pinto e infatti è andato al Bormut ormai sembra che l'ha chiamato il CEO United Liverpool e tutto quanto e resto adesso quando si poteva fare qualcosa tentare no questo questa questa favola Daniele Tocci perché poi Daniele Tocci era una favola tu gli affianchi un direttore sportivo come Ghisolfi affidandoti all'intelligenza artificiale e hai ritoppato un'altra volta e adesso hai bisogno di ripartire da zero cacciando via sicuramente Ghisolfi e in questo momento quello che devi cacciare immediatamente è Juric però ripeto io sto sempre qua non riesco a uscire da sta cosa oltre a Juric io non vedo nessuno anche Roberto Mancini far progetto ragazzi io in questo momento sono terrorizzato sono terrorizzato ecco perché ve dico le mie notizie la squadra rivuole Daniele non ha mai accettato il modo in cui lo hanno cacciato perché per loro era stata proprio una cosa assurda e tanti giocatori erano venuti perché lui l'aveva convinti perciò i tifosi sarebbero stracontenti la maggior parte tranne i murigni che ormai fanno gli farebbero la guerra uguale a qualsiasi partita persa però ci dobbiamo andare avanti e con Daniele Daniele fino a giugno secondo me così potreste andare avanti per il resto ragazzi non saprei proprio che dirvi chi mi parla di Ragneri io non credo mai che Ragneri accetterebbe la Roma come allenatore ma che progetto è che cosa è Ragneri comincia a avere anche una certa età cioè l'unico traghettatore sarebbe Allegri ma non te ci viene mai fino a giugno Allegri e non puoi pensare di fare un progetto con Allegri è un problema ragazzi è un problema perché poi il problema è chi li prende le prende queste decisioni chi le prende queste decisioni questo è un problema secondo voi chi le può prendere una decisione così calcistica non lo so non lo so e il discorso che i frecchini devono vendere è il primo possibile io spero che dopo tutto quello che hanno visto hanno finito tutte le dispense papali ormai hanno finito tutto che possono fare rimette altri soldi per rilanciare tre piotte ormai la loro incompetenza ha sventrato una squadra le altre crescono e la Roma rimane rimane al palo le altre crescono e la Roma rimane al palo la Roma è più vicina al Genoa che è la zona retrocessione che è la zona Champions League dove ci stanno quattro squadre una è anche l'Udinese che sta a sei punti dalla Roma è una tragedia ragazzi è una tragedia e e qui non si vede non si vede luce non si vede mano non si vede non si vede positività perché questi non te la danno non te la danno perché bastava veramente poco ma era quasi fatta per Pioli ma Pioli Pioli in confronto a Juric ragazzi ma che è stato a scherzare ma che è stato a scherzare è dieci spanne sopra Pioli a Juric Juric è proprio Juric è come vi è venuto in mente se sostituì Daniele De Rosci prende Juric e dire che volete vincere i titoli Juric proprio come vi è venuto in mente quando ci avete parlato ma ragazzi ma che vi è trasmesso Juric non ha nulla non ha assolutamente nulla a livello carismatico a livello proprio di temperamentale ieri quando si è messi a piangere e piangeva così dico ma prendete conto un professionista che guadagna 2 milioni di euro l'anno che arriva dopo un mese e vede a piangere come cosa ma poi è una Roma uno del genere a me non mi fa appena a me non mi fa appena ma io da una cosa dell'espressione del genere dico questo non può proprio allenare Roma ha dei seri problemi anche caratteriali oltre che a livello del gioco che tu capisci che sta squadra rigetta questo modo di giocare invece di guardare miglioramenti ci sono stati peggioramenti a cadena e cerca di cambiare Selic è diventato inamovibile ha fatti i cambi alla Roma lui ha fatto turno per tutta la rosa tranne che Selic Selic deve giocare sempre e tutti i 90 minuti perché ieri ieri fa disastri da tutte le parti ma lui 90 minuti in campo esce Angeligno e Selic tutti i 90 minuti ma di che stiamo a parlare di che stiamo a parlare l'allenatore ormai l'abbiamo capito tutti credo no non può non può più stacqua poi ragazzi fanno una reazione perché sono stati contestati vincono col Torino cambia niente raga fidatevi come Roma Odinese è una partita cambia un cazzo in casa poi diventano trasferta diventano gioco a Napoli a Bergamo a Londra a Cortotter cambia un cazzo quello che puoi fare quello che puoi fare e cambiare l'allenatore però ripeto l'unica strada che io vedo percorribile è fino a giugno con Daniele De Rossi e non è per dire perché so De Rossi a me non me ne frega un cazzo De Rossi fa proprio un cazzo anche De Rossi è un professionista è miardario né è mio fratello né è mio fratello non me ne frega proprio un cazzo si è De Ostia è Romano è a bandiera da Roma e lo rispetto sempre e tutto quanto ma Nemmi a me non mi interessa io guardo la Roma metto sempre la Roma prima al posto prima di tutti ma Daniele De Rossi è l'unica scelta in questo momento razionale per portare per portare la barca in porto fino a giugno poi vediamo quello che avrà fatto in base a quello che avrà fatto se decide lo teniamo o non lo teniamo questo è però io non vedo non vedo non vedo non vedo segnali perché poi sono proprio spaventato dalle loro scelte e ho paura che loro in questo momento non stanno scegliendo proprio per la paura di sbagliare perché talmente ormai sono rimasti scottati dall'acqua calda che hanno paura pure di quella fredda ormai hanno capito che sono incompetenti perciò avranno paura in questo momento di cambiare Iuric per dire che piano poi se sbagliamo pure quello apposta io dico Peppa Peppepa tanto lo paga Daniele a richiama Daniele De Rossi intanto perché Daniele De Rossi non mi andrà in Champions League ormai perché ormai in Champions League non ci potrà mai andare però magari Daniele De Rossi non mi fa non mi fa perdere 4-5 a 0 derby magari Daniele De Rossi mi porta in porto la stagione con dignità poi Iuric sono saltati è saltato tutto come fai a portare in porto sta stagione con Iuric e altri allenatori in questo momento sono tutti in rischio perciò io do un suggerimento spassionato ai presidenti Frecchi secondo me l'unico modo per portare in porto sta stagione è che voi fate un passo indietro chiedete scusa è da uomini non è che chiedete scusa gli errori sbagliano tutti io ho sbagliato tante volte sul lavoro e quando ho sbagliato ho chiesto scusa tanti possono sbagliare e tanti quando sbagliano l'uomo deve chiedere scusa non esiste non esiste che un uomo non chiede scusa se sbaglia sbaglia e torna indietro all'inazoluku l'inazoluku devi stare zitta perché non c'è stanno alternative gli surfi devi stare zitto se no devi dimissioni e prendi la palla al bacio basta ok monologo terminato comunque alcio i blurp un po'